Cari amici, in questo momento sono impegnato su un grosso lavoro che vi presenterò nei prossimi giorni, un lavoro importante, una tappa molto significativa di questa inchiesta, quindi con grandissimo piacere cedo uno spazio sul mio canale al dottor Giacomo Maria Prati, che già conoscete, perché sono stato ospite di Augusto Bianconi in una trasmissione con una sua intervista che ha dato molti più contributi del dottor Giacomo Maria Prati, che non è sottoscritto. Avvocato, magistrato onorario, master in economia e gestione di beni culturali, sviluppa parallelamente un interesse per l'arte antica, l'iconologia, quale cultura ermeneutica universale. è autore di un'infinità di libri attualmente, è direttore del Museo della Certosa di Pavia. Lui ha frequentato gli ambienti tradizionalisti, conosce il modo di pensare di questi ambienti e quindi procede in due puntate a una difesa del sottoscritto contro i suoi detrattori, partendo dal professor De Mattei, sul quale si concentra in modo particolare, passando per il professor Viglione, Don Daniele di Sorco, Michielan, la professoressa Geraldina Boni, eccetera, e altri detrattori. Ecco, quello che ha messo in luce il dottor Prati è questo, cioè le critiche che vengono fatte al panorama che io ho ricostruito in modo compiuto, sono sempre critiche settoriali, sempre critiche pezzetto per pezzetto, per esempio, che ne so, l'avvocato patruno dice eh beh no, ma la rinuncia di Benedetto è invalida per il differimento, ma non dà una spiegazione di questo differimento, mentre io, come sapete, in quattro anni di studio, non perché io sia più intelligente degli altri, ma semplicemente perché ho investito, immolato quattro anni della mia esistenza allo studio giornaliero di questa questione. Quindi se sono arrivato ad alcune conclusioni, alla ricostruzione di un panorama compiuto, ci sono arrivato sui gomiti, non aiutato se non da pochissimi eroici e coltissimi professori che mi hanno aiutato nel latino, nella storia della chiesa, nel diritto canonico, eccetera, non perché io abbia delle particolari qualità intellettuali rispetto agli altri, ma perché mi sono dedicato molto, molto, molto allo studio di questa questione. Vi lascio all'ascolto del dottor Giacomo Maria Prati, assolutamente godibile per rigore razionale e verve polemica, e buon ascolto a tutti. Ringrazio Andrea Cionci e i suoi collaboratori per lo spazio che mi hanno concesso, chi mi conosce sa che da molti anni mi occupo di cultura ermeneutica, cioè detto in parole povere di interpretazioni di testi antichi, fra letteratura, iconologia delle arti antiche, segni e simbolismo, per cui un tema come quello affrontato da tanti anni di Andrea Cionci, cioè se Bergoglio sia un legittimo papa o se sia un antipapa, se Benedetto XVI sia veramente dimesso dal papato o sia rimasto papa fino alla sua morte, è un tema che interessa a tutti e a cui non possiamo sottrarci, sia chi si occupa di interpretazioni, sia chi si occupa di cultura, che ancora di più chi oltre a questo senza suo merito è cristiano cattolico, è credente, quindi è un tema fondamentale. Io poi ho personalmente conosciuto in parte il mondo cosiddetto tradizionalista, cioè dei cattolici conservatori molto attaccati alle tradizioni antiche che anch'io amo naturalmente, per cui ho conosciuto alcuni dei principali detrattori accusatori di Cionci, per cui è condolore che devo dire che la tesi di Cionci mi appare condotta in modo molto razionale, coerente e anche umile, mentre tutti i suoi detrattori sono accomunati da un certo livore, da una certa aggressività, ma anche da un ragionamento frammentario, cioè attaccano per smontare singoli dettagli dell'indagine di Cionci, ma non hanno una visione comune. Quindi sembra completamente impazzito Benedetto XVI dal 12 febbraio 2013 in poi, mentre Cionci è l'unico che riesce a ricostruire una visione completa che abbia un significato sia dell'atto di rinuncia al ministero, all'esercizio del ministero. Ecco, adesso possiamo mostrare la slide che Andrea Cionci spresso mostra, ed è giusto ricordarla perché stiamo parlando comunque direttamente o indirettamente di questa tesi. Vedete che è un ragionamento molto semplice, molto umile, che tutti possono comprendere e si fonda sul diritto della Chiesa, sul diritto canonico, che i detrattori suoi infatti sbagliando, sbagliandoli in fede e ragione, disprezzano, come se il diritto canonico non fosse fondato sul diritto divino e come se la Chiesa non fosse un'istituzione divina. E quindi poi ci torneremo su questo punto. Quindi fondandosi sul diritto canonico e su una legge importante della Chiesa fatta da Giovanni Paolo II, l'Universi Dominic Regis, che disciplina appunto l'elezione del pontefice e le modalità anche di cosa deve accadere in sede vacante e tutto quello che riguarda anche la rinuncia al pontificato. Quindi bisogna leggere insieme il canone 332 che dice che puoi rinunciare al pontificato solo se rinunci al munere, appunto al dono, al papato. E non invece, come ha fatto Benedetto, che ha rinunciato all'esercizio del papato, ma non al papato. Quindi Cionci dice che non è stata una predicazione del papato. Aggiungo io, è Dio che crea il papa, è Dio che crea il papa, non i cardinali. I cardinali alleggono una persona che può anche rinunciare, appena eletta. E questa è la differenza, no? C'è anche queste infinite sfumature. La sintesi è molto interessante, è molto razionale e tutti i detrattori di Cionci a mio parere non la smontano. Infatti non citano mai l'Universi Dominic Regis, non citano mai il diritto Calone, ma lo disprezzano, dando conto alla legge della Chiesa. E Benedetto, a ragione di Cionci, ha rinunciato, lo dice lui, lo dice lui, lo conferma nel 27 febbraio, l'ultimo studienza pubblica in piazza San Pietro del 2013, rinuncia all'esercizio del vescovo di Roma, cioè rinuncia a quello che i cardinali gli hanno dato, ma non sono i cardinali che fanno il papa, è Dio. Dio dà il tuo espetus, cambia lo status ontologico, possiamo dire, del cardinale, dopo che è stato eletto, il cardinale è eletto dopo che è stato eletto dagli altri. Quindi Benedetto ha detto che ha rinunciato a quello che gli hanno dato i cardinali, non ha rinunciato al papato, non ha rinunciato al mus, quindi una tesi molto semplice. Come rispondono, che tipo di pensiero, che tipo di ragionamento fanno i detrattori di questa tesi, che si può criticare come tutte le tesi, ma appare assolutamente logica, lineare, anche umile, perché non si fonda su un proprio ragionamento, ma si fonda sul diritto canonico e sulle leggi della Chiesa, verso il quale il cattolico, insegna il catechismo di San Pio X, dovrebbe avere la massima deferenza e obbedienza. Vorrei analizzare, proprio per spiegare, mettere in evidenza, con dolore, ripeto, come un certo pensiero tradizionalista non può nemmeno più dire su un pensiero cristiano, purtroppo, è assurdo, ma è così, un articolo recentissimo di Roberto De Mattei. Docente universitario, scrittore, saggista, difensore della tradizione cattolica in molti libri, che ho letto anch'io, che ho apprezzato anch'io, ma in altre posizioni assume un pensiero che non sembra cattolico, che non sembra neppure cristiano. Questo articolo si intitola Francesco e Papa, dubbi e contraddizioni, è uscito su Corrispondenza Romana, l'agenzia di stampa guidata da Roberto De Mattei, e apparentemente è solo un articolo per dire, è uscito un nuovo libro di Massimo Viglione, che è stato per tanti anni collaboratore, stretto, di Roberto De Mattei. In realtà dice molte altre cose, molto strane anche questo articolo, e inizia con lo svalutare con una certa albagia professorale l'indagine di Cionci, dicendo beh, ma su Cionci ha già detto tutto Federico Michielan, uno studente con una sua tesi, Francesco Patrono che l'ha intervistato, Don Daniele di Sorco, un sacerdote, la professoressa Don Pinna, un altro sacerdote, e la professoressa Geraldina Boni, canonista dell'Università di Bologna. Come dire, sono sciocchezze, sono state già smontate. Io sono andato a rivedermi le tesi principali, se non nel libro, negli articoli, nei video, riassunti da loro stessi, nei video di questi autori, e mi sembra invece che ci siano grossi errori di fede e di ragione, purtroppo, di fede e di ragione, in questi autori, e quindi non è assolutamente vero che è stata smontata così facilmente la tesi di Cionci, ma anzi è stata confermata da questi autori, anche fra di loro in contraddizione, lo vediamo. Iniziamo da Federico Michielan, uno studente che fa una tesi su questo tema del Papa, della rinuncia al papato, del Papa legittimo, il quale ritiene, primo errore, che il Papa possa essere come un tiranno che se ne frega del diritto canonico, quindi fa le sue dimissioni come vuole. E qui abbiamo una prima contraddizione logica. Allora, o il Papa resta Papa e può modificare il diritto canonico, non stravolgendolo come vuole lui. Come conferma la professoressa Geraldina Boni, canonista, docente universitaria dell'Università di Bologna, e quindi le fonti a cui rinvia De Mattei confliggono fra di loro, il Papa non ha un potere assoluto, ha dei limiti giuridici, e aggiungiamo noi teologici anche. Il Papa è chiamato da Cristo a confermare il Vangelo di Cristo, a confermare la tradizione cattolica, apostolica, non può stravolgerla. Quindi la visione del papato di Federico Michelin è un po' un Papa Caligola, un Papa Dioniso, un Papa anticristo, perché l'anticristo, secondo le lettere dei tessalonicesi di San Paolo, è l'anomos, viene tradotto con ingiusto, ma in realtà anomos in greco vuol dire senza legge, cioè l'anticristo è colui che rifiuta ogni legge umana e divina, quindi il Papa non può essere come l'anticristo, non può voler distruggere il diritto canonico, può modificarlo con degli atti specificamente e chiaramente miranti a modificare il diritto canonico, con una determinata procedura, ma anche qua non stravolgendono i fondamenti, perché il diritto canonico si fonda sul diritto divino, bisogna rileggersi il bellissimo catechismo maggiore di San Pio X, e quindi non possiamo criticare l'indagine di Cionci in base a una visione pagana, mondana, politica e non cattolica del papato. Dio è logos, Dio non si contraddice. Se non valessero le leggi della Chiesa, il diritto canonico, allora perché si deve fare un conclave per eleggere il Papa? Potremmo imporre chiunque allora. Quindi un cattolico non può avere una visione anarchica, sovversiva del papato. San Paolo ci ricorda che Dio non si contraddice, è fedele alla sua parola, il papato si fonda sulla parola di Dio, e se è vero che la prima fonte del diritto canonico non è una fonte arbitraria, perché il papato ha sopra di sé le sacre scritture, la tradizione della Chiesa, è la stessa logica, perché Dio è logos. Non è Caligola, non è Dioniso, non è l'anticristo il Papa. La professoressa Geraldina ha giustamente messo in evidenza, ad esempio, un'altra anomalia, oltre a quelle definite da Cionci, della cosiddetta rinuncia, ma non al papato, di Papa Benedetto, il fatto che manca una giusta causa, manca una giusta causa per il bene della Chiesa. Il Papa stava bene fisicamente, Papa Benedetto, e psicologicamente, intellettualmente. Lo dimostra come i suoi interventi, nonostante la sede impedita, i suoi interventi, nonostante sia stato relegato poi in un monastero, i suoi interventi a difesa della Chiesa, che comunque è riuscito a fare, e quindi non c'è la motivazione. Può un atto senza motivazione, un atto così importante, essere valido, essere quello che sembra? Difficile. L'altra grave illogicità di Federico Michelin è di dire che la rinuncia è incompatibile, scusate, ritorno alla prima illogicità. Sì, è una rinuncia strana perché rinviate più di due settimane, ma fa quello che vuole col diritto canonico. No, abbiamo detto che è una declarazione, è una dichiarazione. Le dichiarazioni, a differenza degli atti, non ha potere deliberativo statuitivo, e qui siamo nel diritto, perché sta parlando del proprio potere, comunque, quindi il contesto è giuridico. Quindi una dichiarazione ha uno scopo comunicativo e non deliberativo, prima cosa. Non ha una causa, abbiamo visto, non intendeva modificare il diritto canonico, perché non lo dice, e se fosse vero quello che dice Michelin, allora tutte le prossime rinunce del papale dovrebbero rinviare di due settimane? Vedete che non ha senso, assolutamente. Basta estendere queste obiezioni diventano delle leggi assurde, anche ridicoli. E poi cosa dice Michelin? E poi, appunto, se lui rinuncia al papato, come fa a modificare il diritto canonico? O resto papa e modifico il diritto canonico, ma ci sono altre forme per farlo, altri modi, bisogna anche dirlo, che lo si vuole fare, o se mi rinuncio al papato, come faccio a modificare il diritto canonico? Altra simile contraddizione è ritenere che la rinuncia sia incompatibile con la sede impedita. La rinuncia valida è incompatibile con la sede impedita. Se io papa rinuncio al papato, chiaramente non sono più papa, quindi non si può parlare di sede impedita, certo. Ma il punto è proprio questo, che Socci ritiene di aver dimostrato, e a mio parere ha portato delle ragioni numerose, coerenti, logiche e fondate, difficili da criticare e smontare, quasi impossibili da relativizzare, per cui questa non è una rinuncia al papato. E quindi dov'è la contraddizione? Non è la rinuncia al papato che non c'è, che crea la sede impedita. E sono le conseguenze di questa rinuncia, presa per vera, ma non lo è, soprattutto la convocazione di un conclave nuovo, che crea la sede impedita, è evidente questo. Quindi ci sono elementi di grande contraddizione in logicità nei detrattori di Ciocci. L'altra tesi che non sta in piedi è poi ritenere che non vi siano soluzioni. Questa è una posizione anche di Mattei, di Viglione, di Zenone, non ci sono soluzioni. Perché? Perché il diritto canonico non le prevede. E come? Prima svalutate il diritto canonico, dite che il Papa può fare quello che vuole, e poi il diritto canonico diventa fondamentale perché non prevede la deposizione di un Papa eretico o di un antipapa. Al di là che ciò ci parla sempre di antipapa, non di Papa eretico, ma le soluzioni ci sono e della storia della Chiesa, che ce lo insegna, duemila anni di storia della Chiesa, anche questo è tradizione apostolica, ci torneremo. Giovanni Paolo II dice che con la duodecimum seculum dice che tradizione apostolica non solo è il deposito della fede, ma anche l'insieme di regole. Quindi anche la Chiesa legiferante e governante ha una tradizione apostolica infallibile e ci dimostrano che i 40 antipapi sono stati deposti dall'imperatore, di solito dai cardinali. Quindi come un Papa viene eletto, se non viene eletto legittimamente può essere deposto. Com'è possibile che non ci sia una soluzione? E poi ci sono anche dei giudizi temerari a rischio della bestemmia da parte dei dei trattori di Cionce, perché dicono ma Dio non sarebbe buono se lasciasse usurpare il proprio papato. È un ragionamento che non ha nessun senso, lo storico e teologico, una gravissima offesa a Dio, questo alludere che possa non essere buono, perché allora lo scisma d'Occidente, i vari anni di scisma dell'Occidente, il tradimento di Giuda, cioè perché Dio non sarebbe stato buono perché Giuda l'ha tradito? È il contrario, è Giuda che ha aperto la sua anima al diavolo che ha permesso questo tradimento e Dio l'ha permesso per lo scopo della redenzione naturalmente. Quindi l'alludere a questa situazione è assolutamente un giudizio molto pericoloso di fede e di ragione e si può facilmente ribaltare. Dio non sarebbe buono, invece non si dice mai questa frase, non va mai coinvolto Dio nei suoi dogmi quando si fa un giudizio giuridico sui fatti e sull'interpretazione delle leggi, ma se proprio dobbiamo farlo, io lo farei al contrario. Dio non sarebbe buono se lasciasse la sua chiesa in una soluzione inestricabile, se lasciasse la sua chiesa per la quale è dato il suo sangue in un vicolo cieco. Ma sarebbe un Dio crudele, no? E Cristo ha rivelato di essere lui stesso Dio e ha rivelato che la trinità a cui lui appartiene è un Dio buono, giusto anche, non solo misericordioso, ma anche infinita giustizia e non può essere un Dio crudele che lascia tutta la sua chiesa e i suoi fedeli in un vicolo cieco inestricabile, perché ha dato la sua vita per creare questa chiesa. Lo stesso papato è un frutto della redenzione, del sacrificio di Cristo, quindi non può lasciare la chiesa senza soluzione. La soluzione, come detto, la dà la logica ai duemila anni di storia della chiesa, che fa parte della tradizione apostolica. Don Pinna, anche lui, fa di grossi errori, di fede e di ragione. Dice che un potere senza esercizio è solo teorico, non è vero. Il munus è il dono del papato, è un'istituzione divina di per sé. Il papa è tale, una volta che, legittimamente eletto, ha accettato, si è seduto sulla cattedra di San Giovanni, la Terano, ha preso l'anello da pescatore, il palio, e dopo viene ordinato vescovo, dopo, dopo viene ordinato vescovo, se non lo è già, se lo è già, è papa. È divina istituzione. L'esercizio è una conseguenza. La verrà dopo. È già papa quando appare alloggiato, no? Ha fatto qualche atto di esercizio del potere della chiesa. No, è il papa. Quindi è una posizione confusa. Don Pinna cade nello stesso errore. Il papa non è tenuto il diritto canonico. È come dire, Dio non è tenuto i dieci comandamenti perché li ha creati lui. Quindi Dio potrebbe compiere atti contro i dieci comandamenti. Chiaramente saremmo alla follia. Il Dio cattolico, il cristiano cattolico, non è un Dio folle, non è un Dio irrazionale, non è un Dio capriccioso, è sommo bene e sommo logos e sommo bene e sommo logos non ha contraddizione in sé. La parola di Dio non è parola umana. Non solo è assolutamente vera, ma è parola che agisce, che crea, è parola creatrice, è parola che cambia l'essere perché Dio è l'autore dell'essere, la fonte dell'essere. L'altro errore, Don Pinna, è ritenere, svalutare anche qua il diritto canonico, dicevamo che come se non si fondasse sul diritto divino, quindi si viola anche il catechismo di San Pio X, molto che la tradizione della Chiesa, ritenere quindi una visione del papa mondanizzato, politicizzato e parificare la posizione del papa è quella dei vescovi. Questo è un errore che fa anche Michelano, che fa anche Phil Max. Esiste il papa, il vescovo in merito, quindi può esistere il papa in merito. No, la figura del papa in merito non è mai esistita nella Chiesa, non esiste, o sei papa o non sei papa. Il tu es Petrus è la vocazione esclusiva, unica, solo a Pietro Gesù dice queste parole che lo cambiano per sempre. La prima pietra di fondamento è Pietro. Poi ci sono le altre undici. La Gerusalemme celeste, la pietra di fondamento sono dodici, ma la prima è Pietro, quindi Pietro non solo è colui che regge la Chiesa, è colui che deve confermarla nella fede, nell'unità e nella verità. Ed è una massa di autorità anche di governo e giurisdizione. Non ci sono alcuni poteri del papa che non vengono da Dio, ma vengono dagli uomini. Tutti vengono da Dio perché la Chiesa è istituita da Dio. Chi non crede questo è in eresia, ci dice San Pio X nel suo catechismo. La Chiesa non può stare senza Pietro. Beh, certo, ma la Chiesa è sempre con Pietro perché Pietro è sempre con Cristo. E allora la sede vacante? Don Pinda si dimentica i periodi di sede vacante? Fra un papa e l'altro si dimentica i periodi di scisma? La Chiesa è stata retta dal cielo, in quel caso, no? È il vicario, fondamentale perché così l'ha voluto Gesù. Gesù non aveva bisogno di Pietro, ma ha voluto Pietro come Pietro di fondamento, quale è anche, a mio parere, conseguenza dell'incarnazione. Poteva intervenire nel mondo senza farsi uomo, Dio, ma ha voluto farsi uomo e ha voluto dare questo potere divino ad un uomo. Noi abbiamo bisogno del papa perché siamo deboli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci confermi nella fede, se no rischiamo facilmente di sbandare, come fanno molti, almeno, sedicenti tradizionalisti. La professoressa Geraldina Boni dice cose giuste che concordano con Cionci. Quindi De Mattei sbaglia anche in questo, nel rinviare una fonte che non è del tutto contro Cionci, ma dice cose su cui non si può non concordare, a differenza di tutti gli altri detrattori che contrastano con la Geraldina Boni. Ma ha ragione la Geraldina Boni quando dice che munus e ministerium sono cose differenti in senso giuridico e la comunicazione, la dichiarazione di Papa Benedetto riguardava comunque il suo potere in un contesto giuridico. Cosa riguardava? La teologia, no. I poteri di governo, i poteri di legge della federazione, il potere del papato, l'esercizio del papato, quindi comunque un contesto giuridico. Dice che il Papa non è un re assoluto, giusto, è vero, non l'ha mai stato. Dice che può esserci un solo Papa, giusto. L'errore di Geraldina, e mi dispiace dirlo, ma è un errore logico così facile che anche un non docente se ne accorge, comunque fedele che, come dice Cionci, normo ragionante se ne accorge, e ritenere che in una dichiarazione così importante, così solenne, che riguarda comunque un contesto di potere, il Papa Benedetto XVI abbia potuto usare munus e ministerium in senso lato, in senso profano del termine, cioè non nel senso preciso, ma nel senso non politico, non giuridico. È un atto fondamentale quello che ha fatto, anche se è solo una dichiarazione e non la rinuncia al Papato, è comunque un atto importante, perché si ritira dall'esercizio del Papato, quindi è chiaro che i munus e i ministeri non possono essere usati come sinonimi. E voi fondate il Papato o meno di un personaggio che sia Papa o no su una sinonimia? È una posizione interpretativa molto debole, no? Cioè ne fondiamo la Chiesa di Cristo sulla confusione? Sui dubbi? No, non è possibile. O sei Papa o non sei Papa. O ha rinunciato al Papato o non ha rinunciato al Papato. Cionci mi sembra abbia dimostrato a livello razionale e giuridico che non ha rinunciato al Papato. La cosa poi strana, buffa, che farebbe ridere se non fosse dolorosa è che Roberto di Mattei, che si è sempre presentato pubblicamente in tanti decenni come grande tradizionalista, quale discepolo di Plinio Correa di Oliveira, quindi discepolo di quello che giustamente ha definito Roberto di Mattei, ha dedicato un libro, il crociato del XX secolo, si pone quindi come nuovo crociato Roberto di Mattei e rinvia poi una canonista che è progressista, perché Geraldina Boni come canonista è una conciliarista, è una progressista, perché vuole che il Papa abbia meno potere, ha proposto una legge dove ritiene che le leggi del Papa debbano essere sempre più sinodali, che la sede impedita debba essere dichiarata dal Cardinale Decano, quindi vuole un Papa con ancora meno potere quando il Papa di oggi è veramente poco potere rispetto alla tradizione cattolica. Quindi De Mattei è uno strano tradizionalista perché rinvia ad una docente che è in questo campo di sinistra, possiamo dire, progressista, conciliarista, vuole indebolire il Papato, ma allora De Mattei ha un comportamento contraddittorio, schizofrenico, da una parte esalta De Maestra con la sua esaltazione del Papato, quale massima teocrazia, che bella la teocrazia, dall'altra poi appoggia una canonista che contraddice gli altri detrattori a cui lui rinvia, non solo questa grande logicità, ma anche che vuole un Papa sempre più debole. E questo non è possibile. Quindi non esiste un Papa putativo, mediatico, ecco l'altro errore del canonista, cioè che sì, magari ci sono state delle irregolarità nelle elezioni, ma ormai è accettato da tutti Bergoglio, quindi è Papa. No, questo contrasta anche questo col catechismo di San Pio X, non esiste un Papa mediatico, non esiste un Papa democratico, non può esistere questa oneresia, il potere del Papa viene da Dio, è da Dio solo, quindi o sei Papa o non sei Papa, anche se tutti pensassero che un personaggio è Papa, se non lo è, se non ha ricevuto il munus o se non ha rinunciato il munus, lo è ancora, quindi non c'entra nulla, non ci può essere nessuna sanatoria se c'è una nullità di materia così grave dal punto di vista canonico. Non è la gente che fa il Papa, lo fa Dio il Papa, appunto. Questa è la tradizione apostolica, infallibile, immodificabile della Chiesa. Chi non pensa questo si allontana dalla Chiesa Cattolica, è molto pericoloso pensare a questo. Molto pericoloso. Altro errore, in cui cade anche Michelana e Phil Max, ritenere che il Papato sia un sacramento. No, purtroppo dovete tornare, mi dispiace, al catechismo di San Pio X, perché i sacramenti sono sette. Andate a ristudiare il catechismo, sono sette, il Papato non è un sacramento, è una missione divina, un carisma divino, un'autoritas divina, cristica, che contiene in sé la pienezza del potere sacramentale e la supremazia del potere sacramentale, ma sono sempre sette i sacramenti. Tant'è che puoi rinunciare al Papato, ai sacramenti non puoi rinunciare. Il matrimonio è indefettibile, indelebile, fino a morte. Il sacerdotio è indelebile, in eterno, addirittura anche dopo la morte. Il battesimo non si può togliere, puoi fare tutti i riti di sbattezzo che poi inventati, ma il battesimo rimane. Questa è la dottrina della Chiesa, può essere cambiata. E quindi non confondiamo il Papato con i sacramenti e non confondiamo il Vescovo di Merito, che è una cosa, col Papa, che è un'altra. Mettere il Papa sullo stesso piano dei Vescovi come mettere Cristo sullo stesso piano degli Apostoli è un grave errore di ragione e di fede. E si va fuori tema poi. Don Daniele Sorco, anche lui, altro detrattore a cui, accreditato da Roberto Di Mattei, malamente accreditato, erroneamente accreditato, fa gli stessi errori. Uno sui ministeri non sono uguali, ma la professoressa Geraldina ci ha spiegato di no. E la Chiesa ci spiega di no. E fa addirittura un giudizio molto pericoloso, Don Daniele di Sorco, stiamo attenti, che rischia di essere un ragionamento molto vicino allo scisma, se di vacantismo, perché lui considera modernista chi accetta il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II può non piacere, a me non piace molto, ma è un concilio, c'è stato, è un fatto storico. È un concilio pastorale. Puoi ritenere superata quella pastorale, come per me è in gran parte superata. Ma non puoi dire chi accetta il Concilio Vaticano II. È stato un legittimo concilio. Se tu rifiuti il Concilio Vaticano II come legittimo concilio, ti poni fuori dalla storia della Chiesa, fuori dalla Chiesa. Accusare di modernismo, cioè di eresia, legittimi pastori come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, significa non essere cattolici, significa essere sede vacantistico, significa entrare nello scisma, nell'apostasia, che vuol dire allontanarsi, scendersi dal legame salvifico. Quindi è molto grave, qui andiamo non solo nell'errore logico, ma nell'errore teologico. Anche lui cade nella solita sciocchezza, con la rinuncia può fare quello che vuole, ma ha dei gravissimi doveri, delle gravissime responsabilità. Proprio come supremo pastore. Solo Dio è il padrone, Dio può fare quello che vuole. E il despota, nell'Apocalisse dice che Dio è despota. Per nostra grazia e fortuna è un despota amorevolissimo, ma anche giustissimo. E non si contraddice, come Dio non si contraddice, così il Papa non può esercitare in modo ingiusto, non può fare del Papato una serie di sopraffazione, falsità e ingiustizia. Quello è l'anticristo. State confondendo il Papato con l'anticristo. Attenzione. Fatti questi erronei rinvii contraddittori e infondati ai detrattori di Cionci, come se quindi archiviato il caso Cionci come fosse una sciocchezza, invece sono molte le sciocchezze che dicono i suoi detrattori, De Mattei continua in questo stranissimo e inquietante articolo iniziando a presentare il libro di Viglione, che io non l'ho letto, quindi non entro nel merito, ma entro nel merito, analizzo però quello che dice De Mattei sconfessato poi da Viglione in una risposta. Quindi accusa di sede vacantismo, sede privazionismo, ma sostanzialmente da questa cosa, di sede vacantismo Viglione, perché dice Viglione ritiene che il Papa Bergoglio non sia Papa, ma non per i motivi di Cionci, non si capisce perché non vadano bene i motivi di Cionci, mi sembrano molto più logici, chiari e coerenti, ma per altri motivi, quelli di Socci, cioè violazioni nell'elezione, il quinto scrutinio, tutto quel caso lì, che può anche essere, ma non ne abbiamo le prove in questo caso, oppure perché è eretico. Allora, anche qua c'è un grave errore, il Papa non può essere eretico, ci sono stati i Papi immorali, i Papi peccatori, il Papa è un uomo quindi può essere peccatore, è peccatore come tutti gli uomini, ma non può essere eretico e qui questo è un errore costante di Roberto De Mattei, che sfruttando la sua conoscenza storica, la sua ottima eloquenza, sbaglia però su Onorio, sbaglia su Onorio e sbaglia su Giovanni XXII, la faccio molto breve, che non sono stati veramente eretici. Onorio in una lettera, non in un magistero pubblico, in una lettera di risposta al Patriarca Sergio, cerca di farlo rientrare dall'eresia monotelita, quella che ritiene che Cristo avesse una sola volontà, invece ne ha due, divina, come persona divina e umana, in quanto anche la natura umana, quindi certamente è un'eresia monotelismo, non gravissima, non terribile come l'arianese, ma comunque è un'eresia, proprio per il dolore di questa eresia, in una lettera privata al Patriarca Sergio, propone una soluzione, una mediazione, una via di uscita, più che una mediazione è una via di uscita per far rientrare la chiesa orientale del monotelismo nell'unica chiesa, perché non siamo ancora all'uscismo all'oriente, però iniziano le prime avvisaglie. E qual è la soluzione? Molto bella, molto interessante, se ne può discutere, ma certamente non è eresia, non è eresia conclamata, non è eresia imposta, non è eresia predicata. Quella di Onorio dice, beh, certo le volontà sono distinte, volontà divina e volontà umana, ma agiscono sempre concordamente, ma in contraddizione. Beh, questa non è eresia, questa è la dottrina della Chiesa. Propone un termine interessante, quando agisce Gesù Cristo, vero Dio è un uomo, e l'umanità e la divinità in Gesù Cristo non sono in contraddizione, anche se le volontà sono due, quando agisce, agisce con un'operazione teandrica, bella questa frase, no? Teandrica, cioè divina, teandrica e umana. Divina e umana. Quindi cerca di convincere Sergio a tornare nella vera fede e dice, sì, guarda che le volontà sono distinte, ma agiscono insieme. Quindi vieni anche tu a concordare al centro, palla al centro, dove è l'eresia? Non c'è l'eresia. C'è nella mente di Roberto Di Mattei, di quei tradizionalisti che hanno la superbia di voler giudicare i papi, di essere più vicini a Gesù Cristo dei papi e di essere loro stessi Gesù Cristo o loro stessi papi. Questi tradizionalisti che si creano un papato astratto, che va bene, al quale promettono devozioni in astratto, ma moltissimi papi veri hanno ostilità, freddezza o indifferenza verso questi papi, o li accusano addirittura di eresia. Questo non è il cristiano cattolico, che giudica senza motivo dell'eresia e della fede dei papi. Non è il cristiano cattolico questo. Questo è il fariseo, lo zelota. Ma anche Giovanni XXII, quale eresia? Ha un'idea sbagliata, erronea, sul destino delle anime. Pensa che le anime giungono al paradiso e all'inferno solo al giudizio universale e non subito dopo la morte. Ma non la impone, anzi, riunisce dei cardinali e dice, io sottopongo questa mia opinione alla discussione. Quindi, se uscirai da questa discussione, che è la mia convinzione, sia in contrasto con la dottrina della Chiesa, con la tradizione cattolica, apostolica, io la ritiro. Come poi ritirerà questo suo errore? Sono errori, ma non è eresia, non è un papa eretico. Bergoglio, invece, ammaestra. Ammaestra l'eresia ripetuta, grossolana, all'eresia addirittura di Socino, la peggiore, quella che ritiene l'inferno vuoto, perché se l'inferno fosse vuoto sarebbe inutile il sacrificio di Cristo, sarebbe inutile il papa, inutile il cristianesimo e il cattolicesimo, inutili i sacramenti, perché se l'inferno è vuoto nessuno ci va e quindi cosa serve? Pregare, andare ai sacramenti o credere in Gesù Cristo? Quindi l'eresia di Socino è la peggiore, è antitrinitaria, nega il peccato originale, è l'eresia che, ha detto lui, in cui crede, ma il papa non può avere opinioni personali in materia di fede. Non esiste papa eretico. Perché De Mattei e altri sostengono che esiste? Perché così difendono Bergoglio dicendo, beh, ma ci sono stati altri papi eretici, o no, i giornali 22, quindi dobbiamo tenerci i papi eretici. Benissimo. Cionci parla di alto, parla di antipapa. Non si può deporre un papa. Bene, ma non è papa, questo dice Cionci. Quindi inutile continuare a dire che il papa non si può deporre. E ci sono stati casi in cui è stato deposto. Ma stiamo parlando di se è papa o antipapa, non se è papa eretico o no. Altri gravi eroi. Gravi eroi di Viglione, appoggiato da De Mattei in questo caso, appoggiato da De Mattei, è che non ci sia soluzione. Quindi Dio sarebbe così cattivo che ci lascia nel dubbio. La fede cristiana si fonderebbe sul dubbio se un papa è tale o non è papa. È possibile? Perché non ci sarebbe la prova assoluta della probabile illegittimità e eresia di Bergoglio. Allora, l'eresia o c'è o non c'è, la vedi, è una prova. Se c'è l'eresia non può essere papa, questo lo ritengo io. O ritenete che il papa può essere anche eretico, quindi Gesù Cristo sbaglia quando dice tu sei pietro su questa pietra a fondo della mia chiesa. Quindi voi ritenete che le parole di Gesù Cristo possono essere sbagliate e assumetevi la responsabilità di questa convinzione non cristiana ed eretica, questa convinzione che è una bestemmia, bestemmia logica e bestemmia di fede. Prove assoluta e non esistono sulla terra, neanche la prova del DNA è una prova assoluta, sono prove di probabilità. Esiste però la verità, esiste la verità oggettiva a cui si può avvicinarsi e accedere con la ragione e con la fede. Come ha insegnato il Benedetto sedicesimo. Fides e trazio. Qua vedo che sta mancando fra i tradizionalisti sia la fides che la razza. Rileggetevi San Tommaso d'Aquino che scrive non di visioni mistiche ma scrive con la ragione in materia di fede, fondandosi sulla ragione in materia di fede. Il cattolico tradizionalista non può assumere la posizione gnostica e relativista di Ponzio Pilato. Di fronte a Cristo verità incarnata che gli dice, chieda la verità, ascolta la mia voce, Ponzio Pilato da pagano risponde cos'è la verità. Lui poteva dirlo, è un pagano. Quindi poteva legittimamente ritenersi un gnostico relativista, è un pagano. Un cristiano cattolico non può essere gnostico, non può essere relativista, non può dire cos'è la verità. In materia di fede, in materia fondamentale, come se un papa sia papa o no, e se un papa sia eretico o no, due temi fondamentali per la fede, per la sopravvivenza stessa della Chiesa Cattolica, non si può dire chi lo sa. No, Dio non sarebbe buono, usando il vostro ragionamento, ma non strumentalizziamo il nome di Dio, non proclamiamolo in vano, che anche questa è una bestemmia, ma non è possibile perché la nostra fede non si fonde sui dubbi. L'eresia è già una prova di per sé. La violazione di una legge del diritto canonico, la violazione del diritto canonico, di una legge fatta da un papa legittimo, Giovanni Paolo II, confermata da Benedetto XVI, una violazione di questa legge, nelle modalità di elezione del papa e di rinuncia del papato, è una prova, altrimenti non esiste la ragione. Se non esiste la legge c'è l'anticristo, l'anumos. Il papa dubbio non è papa, perché il papato è un'istituzione che deve confermare la verità assoluta, che è la verità della fede, e quindi non può essere dubbio. Tu es Petrus è una certezza. Sposando la tesi di Radaelli, i Viglioni e dei Mattei accusano sostanzialmente di eresia Benedetto XVI, e quindi diventano scismatici, non solo perché non è provata questa eresia, ma il pretendere, e la superbia è uno dei peggiori vizi, di giudicare il papa teologicamente, senza prove poi, o giudicare la fede di un papa. Il cristiano non può giudicare neanche la fede del proprio vicino di casa, non possiamo giudicare neanche la nostra fede, perché solo Dio giudica la fede. Questo dovreste saperlo se siete cristiani cattolici. Solo Dio conosce il cuore dell'uomo. Solo Dio è giusto giudice, e dentro la Chiesa del suo rappresentante, il pontefice. E quindi Viglione, che accusa di eresia, lo lascia al dubbio, strumentalizzando alcune frasi di un giovane studioso, anni settanta, Josef Ratzinger, che non c'entra nulla con il Ratzinger, difensore per trent'anni, come prefetto della congregazione della fede della tradizione cattolica, non c'entra nulla con il benedetto sedicesimo papa, che ha difeso tantissimo la tradizione cattolica, come anche Giovanni Paolo II la difesa, che c'entra. Qui siamo alla follia, no? Cioè Viglione a me, dice De Mattei, ritiene che possa essere in un stato un genio del male, benedetto sedicesimo, perché abbia inventato un secondo papato per distruggere il papato. Qui siamo alla fantascienza, no? Che non è il cattolicesimo. Il cattolicesimo non è fantascienza, non è fantapolitica. E poi poi accusano addirittura Benedetto sedicesimo, De Mattei, Viglione, di aver creato una diarchia. Ma quando mai? L'ha detto Cionce, l'ha ricordato, Benedetto sedicesimo ha sempre detto il papa è uno solo. Cioè accusate il papa, Benedetto sedicesimo, ma siete cattolici? Non mi sembra, se leggiamo il catechismo di San Pio X. Cioè accusate il papa di essere vittima di quel male, di cui voi lo ritenete responsabile? Qui siamo veramente alla follia. De Mattei poi non dice mai cosa pensa. Non si sa se è d'accordo con Viglione, non è d'accordo, anche questo è poco cattolico. Il vostro dire sia sì sì, no no. Cionce è chiarissimo, in questo è molto cristiano cattolico, è molto chiaro in quel che pensa nella sua interpretazione. Tutti i suoi dettatori sono molto confusi, molto ambigui, oltre che fare gravissimi errori come abbiamo visto di fede e di ragione. De Mattei non lo dice mai, quasi si compiace dicendo che l'opposizione faceva un civiglione e dialetticamente perfetta. Ma la dialettica non è un concetto cristiano cattolico, un concetto hegeliano, un concetto gnostico, un concetto relativista, un concetto comunista, non è un concetto cristiano cattolico. Non c'è nessuna dialettica nel cristianesimo cattolico e nella chiesa cattolica, se non come parola antica per definire le tecniche argomentative, ma non è questo l'uso che ne fa ovviamente De Mattei. Quindi il ritenere che ci debbano essere delle prove indiscutibili per dire che Bergoglio non è papa o è papa eritico, allora se tu dici questo devi indicare quali sono le prove. E questa è un'altra contraddizione assurda, è un pensiero irrazionale questo. Quindi stiamo attenti, lo dico con dolore. Come fai a ritenerti un crociato, come si ritiene Viglione De Mattei, e poi dare spazio alle tesi sedei bacantisti, a chi è scismatico, a chi è apostata. I sedei bacantisti sono apostati, sono allontanati dalla chiesa non ritenendo la più cattolica. No, sono loro che non sono più cattolici. La chiesa ha mille difetti, ma rimane fino a benedetto sedicesimo. È gravissimo questo. Apostasia vuol dire allontanarsi. È una parola greca che deriva dal verbo, adesso non mi ricordo più il verbo, affistemi. Il verbo affistemi è un verbo molto brutto, vuol dire disgiungere, spezzare un legame, ribellarsi, separarsi, abbandonare. Chi abbandona l'Egittimo pontefice, conferma io decimo nel suo Vangelo, non è più cattolico. Questi per essere fedeli alla loro ideologia tradizionalista non sono più cattolici. Si permettono di giudicare papi legittimi, quando Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che hanno dato la loro vita per difendere della tradizione cattolica. De Mattei, nel presentare il libro di Viglione, continua ad andare fuori tema, perché da spazio non è sedevacantista. Viglione dice io non sono sedevacantista. A mio parere, se accusi di eresia Benedetto XVI, ha dei forti problemi sia in termini di ragionamento e in termini anche di correttezza e comportamento di un cristiano cattolico. Però sono contento che Massimo Viglione dice non sono sedevacantista. Allora perché lo accusa di sedevacantismo Roberto De Mattei? Perché nel suo articolo di poco tempo fa, dubbi con tradizioni di Francesco e Papa, dà spazio alle sedevacantiste. Questa è una gravissima colpa, dare spazio agli scismatici, dare spazio agli apostati. O sei tradizionalista o sei apostata. Dillo. Scusate se mi fermo, ma è un tema che questo fa molto arrabbiare ed è molto doloroso per me, che non ho nessun merito, nessun titolo. Lo diceva anche Romano Amerio, anche mi sembra da Elli, che nessuno ha titoli per parlare della fede. Abbiamo un solo titolo, il battesimo. Senza nostro merito, perché col battesimo ogni battezzato riceve lo spirito santo, che è spirito di verità, che è Dio. Quindi senza alcun nostro merito, questo Dio ci chiede di dare ragione della nostra fede e di difendere la fede, che non è solo un deposito di fede, ma come ha confermato Giovanni Paolo II e come conferma Sant'Agostino, Sant'Ireneo e anche l'insieme delle leggi e delle regole di comportamento della Chiesa. Ringrazio ancora Dario Cionci per lo spazio e spero di aver chiarito, almeno in parte spero, come questi detrattori molto aggressivi dell'indagine di Cionci facciano grossi errori di fede e di ragione. Mi dispiace molto, con dolore, che Roberto De Mattei e Massimo Milioni facciano anche loro dei grossi errori di fede e di ragione.